Carissimi amici, a casa mia, a casa di Agostino, vi spiego come si fa il vero casatiello napoletano. Io vi darò le vere ricette e i procedimenti base per farlo. Allora, per prima cosa, gli ingredienti sono, in questo caso ho messo 20 grammi di sale per un chilo di farina e un po' di zucchero, la zucchero è a favore. Poi ci metto, alla fine lo strutto, dopo lo strutto, due lieviti, così subito si fa e la pasta subito cresce, due lieviti, la farina sta qua, acqua liepida, acqua, questa è acqua, questa è acqua di pianuro, questa è acqua buona, questa qua, un filo d'olio, solo un po' con un filo d'olio perché così la pasta diventa più consistente. E poi, mentre facciamo la pasta, ci buttiamo parmigiano grattugiato e anche grattugiato, anche il romano, che così la pasta diventa ancora più saporita e profumata. Per un buon riempimento del casatillo ci potete mettere quelle che volete voi, però in questo caso ho messo prosciutto cotto, salame e un po' di formaggio, anche qualsiasi tipo di formaggio, l'importante è che non sia troppo dolce, anzi un po' salatuccia è meglio. In questo caso il... il... come si chiama? Il rovolone piccante. Grazie Domingo che mi ha aiutato, le mie assistenze, queste... allora, anzi la telecamera, allora l'edito di me è la mia assistenza, cioè è Domingo, mia moglie, come aspettiamo anche a Matteo, il nostro figlio. Allora, e poi le uova, un po' le tagliate un po' come volete, o le mettete interne all'interno, oppure le tagliate più spezzettate, che forse è meglio così, non si... ma per tutta la... per tutti i casatelli. Allora, iniziamo, andiamo. Allora, iniziamo a mettere... allora, prima il lievito, allora ci mettiamo prima il lievito, tutto bello spezzettato, teniamo uno, e poi ci mettiamo... poi ci metto il sale mischiato con un po' di zucchero, come vi dicevo prima, e poi ci mettiamo l'acqua. Allora, la prima cosa è che dobbiamo amalgamare un po' tutto, vedete, così si... si scioglie il sale, lo zucchero e il lievito. Una volta amalgamato tutto, iniziamo a mettere la farina. Allora, io ho tagliato, comunque abbiamo pesato, è un chilo... è un chilo di farina, perché noi già abbiamo fatto tante torte, quindi ci sono rimasti questi due... Quindi, come si dice a Napoli, lo strutto, dice, ma quando è che lo metto? Dopo, dopo, dopo che è impastato, dopo... dopo che è andata a crescere la pasta, e anche il pepe, la stessa cosa. Io continuo con l'impasto. Tra poco andiamo a metterci il parmigiano e il rumano grattugiato. Poi vorrebbe avere una pasta come stavarelle, eh? Allora, ci metterò... Allora, mettiamo ancora... Ecco qua. State sicuro che più ne mettete e il sapore è ancora più forte, cioè... Vieni a farla apposta, eh? Io vi sto dicendo veramente tutti i segreti quelli là originali, cioè... Questo è il meglio casatello che esiste, che voi non avete mai... Cioè, mai vi... mai massaggiato. Cioè, questo è il casatello, cioè... Cioè, vi faccio vedere questa cosa, come diventa... Come diventa importante, anzi, mo tutti quanti verranno sapere tutto, cioè... Tutti quanti si vengono a fare il casatello di agostino, cioè... Poi me lo diridete... Allora... A questo punto lo togliamo da questo contenitore e iniziamo a fare veramente il vero impasto. E il panetto è pronto. Ora lo andiamo a mettere sempre nel recipiente, lo facciamo riposare almeno un'oretta. Allora, appena è cresciuto andiamo a mettere la lasugna e il pepe. Ci vediamo dopo. Dopo un'ora e mezza di... Grave l'abbiamo aspettato. E la vostra è cresciuta. Allora, quello che dobbiamo fare ora... Ci andiamo a mettere strutto... E in questo caso... E in questo caso... Questa è orina... Questo pepe, pepe, pepe... E pepe. Allora, questa è sempre la quantità. Io non ce ne metto quello giusto che ci vuole. E anche lo strutto. Allora, poi andiamo a stracciare la pasta. Diciamo che la pasta adesso si scende tutta. Non è un problema con una difficoltà perché... Poi la andiamo a rimettere l'altra nel suo contenitore. E la facciamo crescere un'altra ora. Perciò... Chi stavo venendo a casa dire? Allora... Pepe. Non bevo il giusto che ci vuole. Allora, ora la andiamo a stendere. Una volta messa sotto il pepe... La andiamo a stendere su questa base lì. A questo punto, una volta stesa tutta... Andiamo a mettere tutti... Tutti il ripieno. Anche. Di controvi... Un'altra. Di controvi... E sono in questo momento... A tutti rUCK catalogano. Una voltaimento per il corso. Tutti? Non patiamo. No,したi. Di controvi... State pensando Wike Bumbo? Ma perché voi dovete fare la dieta proprio nel Pasqua? Allora, piano piano, sotto e gira, sotto e gira, sotto e gira, sotto e gira, deve diventare un rotolo. E questo è il casatello. Allora, ovviamente crudo. Allora, lo andiamo a infornare a forno a 220, lo facciamo crescere un'altra oretta. Lo so, è una procedura un po' scocciante, ma chi se lo è, casatello, se lo volete, fate. L'impasto è cresciuto, ora lo andiamo a mettere in forno. Dopo un'ora e mezza, andiamo a vedere la cottura. Mi sembra che sta per fare. Ecco, fatto, lo prendiamo. Un cartello. Fa vedere. Mi prende a me. Sono Agostino, il boss dei Cassatilli.